L'atteso derby a tinte rosso-blu è del notaresco che si impone sul Nereto al termine di un incontro dalle mille emozioni. La squadra di Mister Epifani conquista il secondo successo in altrettante trasferte dopo quella di Fiuggi. I padroni di casa perdono il secondo derby stagionale dopo quello contro il Chieti. Gara ben avviata per gli ospiti dopo il primo tempo, ma è piaciuta la reazione vehemente della squadra di Mister Senigallesi nella ripresa. I due ultimi acquisti tra i vibratiani De Falco e Nardini si accomodano in panchina, con Mister Senigallesi che conferma l'undici che ha impattato a Piedimonte e Matese. Diversi cambiamenti operati da Mister Epifani, che lascia in panchina Marchionni, Maio e Massarotti, dal primo minuto Gassama, Pesce e Pampano. Pesante l'assenza di Loviso con l'ex Bologna che non ha recuperato dopo un colpo ricevuto contro il Trastevere. Sin dai primi minuti gli ospiti provano a tenere il pallino del gioco in mano, anche se le prime emozioni giungono dopo il ventesimo. Nello spazio di un minuto ci provano prima Massetti, al ventisettesimo, tiro dalla distanza che si perde sul fondo, e poi Valenti, con De Luca costretto alla deviazione in angolo. Ancora pochi giri di lancette e cambia totalmente il confronto. Allo scoccare della mezz'ora, infatti, l'arbitro recupero di Lecce punisce un contatto tra Cipriani e Pesce. Della massima posizione si incarica in assenza di Loviso Valenti, che angola la conclusione rendendo vano il tuffo alla sua sinistra di De Luca. Forti le proteste dei giocatori del Nereto, che appena quattro minuti dopo incassano la seconda marcatura. Tutto nasce da un'idea di Pampano, che prende palle e lascia partire dalla distanza un tiro che sorprende l'estremo di casa e si inzacca sotto la traversa, rete davvero bellissima che rappresenta anche la prima marcatura, sua azione, per la compagine del presidente Di Giovanni. Uno-due micidiale, che pare mettere in discesa il derby per il notaresco e che porta le squadre a riposo. Con le immagini di Claudio Di Giacomo arriviamo al secondo tempo, che si apre con una doppia emozione sempre di marca notaresco. Dopo poco più di un minuto De Luca è costretto all'uscita su Gassama e pochi secondi dopo è il palo a negare la gioia della marcatura a Pesce. Triplo cambio operato da mister senigallese al sesto, con l'ingresso da parte di Faie, De Falco e Nardini per provare a scuotere i suoi. E dal minuto 10 da un cross proveniente dalla sinistra è l'ex Salvatore, capitano di casa, a creare un pericolo dalle parti di Shiba. Palla sul fondo. I paloni di casa ci credono e al dodicesimo accorce una distanza con Siganda, che vince il duello con Gallo e Fredda l'estremo ospite in disperata uscita. Uno a due e primo gol è per l'Italo-Ruguagio, che qualche minuto dopo al diciottesimo ha sui piedi la palla del 2 a 2. Il numero 9 si invola verso la porta avversaria in sospetta posizione di fuorigioco, ma davanti a Shiba calcia incredibilmente sul fondo tra la disperazione del pubblico neretese. La ripresa è un susseguirsi di emozioni ed infatti nello spazio di pochi minuti si passa dal possibile 2 a 2 all'1 a 3 per il notaresco grazie allo scatenato Pampano che al ventunesimo riceve palla, salta un avversario e trova il pertugio per battere De Luca, doppietta per l'ex Monte Giorgio. Ancora a pochi istanti e Siganda vince un rimpallo con speranza, ma questa volta Shiba gli sbarra la strada. Il derby rispetta le consegne ed infatti resta apertissimo. Al trentunesimo i padroni di casa riaprono ancora il match con l'esperto De Falco che mette la sua firma sul tabellino. Numero 15 chiede un triangolo e una volta entrato in aria è riuscito a battere il portiere ospite. Sfiora il poker il notaresco al trentanoesimo, bello il lavoro di Maio che difende il pallone e si gira in piena area. Ottima la risposta di De Luca che tiene aperto l'incontro. Prima del triplice fischio il brivido è al secondo dei cinque minuti di recupero quando Nardini sugli sviluppi di un angolo stiora il colpo grosso dalla distanza. È l'ultima emozione di un match dai mille cambi di scena. Mister possiamo dire nel primo tempo un po' sottotono il Nereto. Dopo i tre cambi operati al sesto e al secondo tempo, forse anche serviti a scuotere un po' la squadra. Grande prestazione da parte del Nereto. L'idea sinceramente dall'inizio era proprio quella. Noi avevamo questi ragazzi che non erano in condizione di fare 90 minuti. Speravamo di tenere nel primo tempo per poter poi giocare con un po' più di vivacità nel secondo. Sinceramente aver preso quei due gol uno dietro l'altro, tra l'altro non costruiti dall'avversario, ma totalmente regalati è stato un problema. La reazione del secondo tempo però secondo me è stata vehemente, di grandissimo livello e dobbiamo ripartire da qui perché mettere sotto una squadra come il San Nicolò è tanta roba sinceramente. Gli episodi fanno la differenza. Se noi avessimo fatto il 2-2 credo che la partita cambiava totalmente e invece non abbiamo fatto il 2-2 abbiamo preso il 3-1. Eppure abbiamo avuto la forza comunque di rituffarci in avanti, cercando di recuperare. Lo abbiamo fatto e potevamo anche pareggiarla alla fine perché ci sono state due occasioni abbastanza importanti. È andata male però nelle sconfitte, se siamo intelligenti, ci sono cose molto costruttive e io oggi sono più soddisfatto e fiducioso a differenza del punto che abbiamo preso contro la Matese. Credo che oggi abbiamo dato una grandissima risposta sotto l'aspetto sia tecnico che proprio di partita. Abbiamo fatto veramente 60-70 minuti all'alto livello, abbiamo fatto un grande primo tempo specialmente e poi sono arrabbiato per gli ultimi 25 minuti dove noi abbiamo praticamente regalato due gol a loro e abbiamo rimesso in gioco una partita che doveva finire sul 2-0. Però ripeto quello che ho detto la settimana scorsa, fa parte del percorso di crescita delle squadre che vengono rifatti quasi nuove, può succedere, dobbiamo migliorare. Oggi era importante vincere perché più che altro per un fatto mentale, perché abbiamo fatto domenica scorsa una prestazione veramente al di sotto le nostre possibilità ma da parte di tutti quanti e oggi abbiamo dato una grande risposta perché il primo tempo fino al 60-60 abbiamo fatto veramente grandi cose anche tecnicamente giocando bene e di questo è di bene auspicio per il futuro.